Sette persone positive di cui si è Salerno ed una Baronissi. È il dato raccolto ieri pomeriggio dall'Asla Salerno sulla diffusione del Covid-19. Tutte le persone erano entrate in contatto con altri casi positivi rilevati in precedenza, già isolati e monitorati. Nella mattinata erano inoltre risultati positivi due coniugi residenziali a Scea, ma che esercitano la propria attività commerciale a Ceraso. Si tratta di contatti del turista straniero in vacanza rilevato proprio a Ceraso giorni fa. È stato infine registrato, sempre ieri, un nuovo positivo a Scafati in isolamento domiciliare, per il quale in queste ore si stanno ricostruendo i contatti. Nel frattempo l'Ordine dei Medici ha lanciato un appello ai quasi 8.000 iscritti per ricordare l'obbligo delle comunicazioni della PEC, fondamentale per assicurare informazioni e comunicazioni uguali per tutti. Sul fronte dell'emergenza, gli esperti raccomandano sempre l'utilizzo della mascherina. L'unità operativa dell'ospedale di Sarno ha attivato sei nuovi posti letto di terapia subintensiva respiratoria, previsti nell'ambito dell'unità operativa complessa di medicina generale, dotati di ventilatori polmonari, adeguata strumentazione tecnologica e sistema di videosorveglianza. Sentiranno la gestione di pazienti critici, cardiologici e respiratori che verranno presi in carico dal pronto soccorso e da altri reparti. Altri quattro posti letto, in stanza visita pazienti, previsti presso il pronto soccorso, ospiteranno pazienti in attesa dell'esito degli esami, che possono essere assistiti nel frattempo da un familiare, liberando in tal modo posti di pronto soccorso che potranno essere destinati ad altre urgenze.